Eccoci ritrovati insieme e io restituisco subito la linea Marepia-Picciafuoco per le prime notizie del giorno. Eh sì, dobbiamo tornare giocoforza seri, caro Tony, andiamo subito al ping pong Israele e Stati Uniti. Come sappiamo negli ultimi mesi anche questo è cambiato, non è più un'alleanza di ferro, non c'è più l'uniformità di vedute tra questi due governi. Infatti il presidente Biden in un'intervista poco fa alla CNN ha detto niente armi se Israele invade Rafah, nessuna svolta peraltro nei colloqui al Cairo di cui vi parlavo nei giorni scorsi e sapevamo che appunto in quegli annunci poi subito ritirati e smentiti non potevamo aspettarci nulla di buono. Poi un altro veloce aggiornamento sempre dagli esteri e dall'Ucraina, 17 droni russi abbattuti nella notte e lo annuncia appunto l'esercito di Kiev. Per venire all'Italia poi magari approfondiremo streptococco, boom di casi tra i bambini. Tra le cause il debito cosiddetto immunologico del post-covid, lo studio è dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli. A più tardi. Grazie Maria Pia, sì ci ritroveremo senza dubbio più tardi, noi adesso invece ci avviciniamo ulteriormente da un punto di vista geografico ai nostri studi perché siamo già in collegamento con Stefania Marrone, drammaturga e parte integrante della bottega degli apocrifi di Manfredonia che in queste ultime ore sta vivendo la chiusura della stagione teatrale al teatro Lucio Dalla di Manfredoni appunto e noi vogliamo sapere da lei come è andata e come si caratterizzeranno ecco questi ultimi palpiti della stagione. Buongiorno Stefania, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per questo invito. Grazie a te, grazie a te per la disponibilità, mi sposto un attimo così non mi sovrappongo al tuo bel volto, vedo che sei stanca, ti sei messa sul divano, non ce la fai più, questa stagione teatrale ti ha consumato ma sei felice però. No, è che stamattina mi sono svegliata con un po' di raffreddamenti diciamo dettati per fortuna dalle varie produzioni di comunità che abbiamo in giro e quindi stamattina c'è stato un risveglio un po' più faticoso però è una stanchezza sicuramente felice, la stagione futura è andata bene nel senso che è stata una stagione lunga, una stagione frequentata è una stagione che ha visto tanti incontri con gli artisti in corrispondenza di ogni spettacolo e quello che abbiamo avvertito è stata una comunità teatrale numerosa che aveva voglia, che ha avuto voglia di vivere questo percorso lungo di stagione insieme a noi e l'avevamo chiamata futura a novembre quando immaginavamo il titolo perché pensavamo al bisogno di riscatto in un momento di paura, era un momento buio a livello globale lo è ancora, ci sono tante incertezze, tanti punti scuri e quello che ci dicevamo è cosa c'entra il teatro? Il teatro è quello che ti può portare dei punti luce nel senso che ti può portare se non delle risposte, almeno delle buone domande collettive, da porci tutti assieme quando si entra in un teatro e così è nata Futura, proprio con il desiderio di poter fare luce, di scavare per fare luce. E poi senza dubbio è un nome che fa il paio anche con il nome del teatro. Si, col nome del teatro. Ci sono stati degli spettacoli più classici, ci sono stati degli spettacoli di teatro di innovazione maggiormente evocati alla sperimentazione. Il vero successo è che c'è stato molto pubblico per tutte le tipologie di spettacolo e c'è stato un dibattito acceso intorno a tutti gli spettacoli. Quindi abbiamo forse finalmente superato l'idea che a teatro si va solamente se c'è il nome che già riconosciamo. A teatro si va anche per conoscere dei nuovi nomi, per conoscere dei nuovi modi e delle nuove possibilità. Sabato 11 chiudiamo la stagione con una cena spettacolo, ecco vedo le immagini qui, saga Salsa della compagnia Qui e Ora di Milano. Saremo ospitati grazie a questa nuova e preziosa collaborazione dalla pizzeria Antiche Mura perché avevamo immaginato di farlo in teatro ma non ci sono stati poi i tempi, le condizioni per allestire la cena in teatro e quindi abbiamo, nonostante il sabato sera, trovato una realtà del territorio che ci ospita per questa cena spettacolo di sabato sera. Grazie, grazie Stefania, è veramente importante quello che state facendo con la bottega degli apocrifi, non solo a Manfredonia tra l'altro perché il vostro impegno si sviluppa un po' su tutta la capitanata, per esempio a Monte Sant'Angelo, quest'anno capitale pugliese della cultura, avete curato la residenza teatro e a Troia vi state impegnando in un progetto di teatro diffuso, raccontaci anche un po' di questi progetti. Sì, siamo contenti anche che questa stagione si chiuda aprendo delle porte nuove. Appunto abbiamo adesso due produzioni di comunità, quelle che immaginano la contaminazione costante dei cittadini con gli artisti, quindi la mescolanza tra una comunità temporanea che è quella degli artisti che arrivano per un periodo in una città, in un luogo e lo abitano per un tempo e invece la comunità permanente che è quella di chi quel territorio lo abita tutti i giorni. Siamo a Troia grazie al progetto Disconnessi, che è un progetto di Puglia senza ostacoli, che ha scelto la nostra produzione di comunità proprio come cuore del suo progetto di riconnessione della cittadinanza. Quindi siamo ospiti di Puglia senza ostacoli a Troia, dove abbiamo lanciato una chiamata per uccelli e dove il primo giugno saremo in scena insieme con i nostri attori, i nostri musicisti e con tutti i cittadini di Troia che vorranno prendere parte al progetto. Allo stesso tempo a Monte Sant'Angelo è partita già dal 6 marzo la residenza culturale di teatro in coro, di cui ci è stata affidata, la direzione artistica è stata affidata a Cosimo Severo e a me. Abbiamo iniziato portando azioni di artisti rilevanti, noti nel panorama nazionale, ma che fossero noti per la loro possibilità, la loro vocazione a coinvolgere le comunità che man mano incontrano. Quindi ci siamo ritrovati nella grotta dell'Arcangelo Michele con il regista Marco Martinelli che guidava un'azione corale, Mi ritrovai. è iniziata la ricerca, la raccolta dei canti e la raccolta delle storie del collettivo Circolo Bergman di Milano. Ieri c'è stata la chiamata pubblica degli apocrifi per un coro alla pace perché ci sembra prezioso nel momento in cui ragionavamo con Cosimo di Contenuti che in questo momento dalla città dell'Angelo non potesse che partire un coro alla pace, cioè che fosse non solo doveroso e necessario, ma che fosse, come dire, la cosa più naturale che potesse accadere a partire da Monte Sant'Angelo. E quindi sì, ci stiamo... Davvero un bel palpito, davvero un bel palpito culturale. Complimenti Stefania per la gigantesca mole di lavoro che state portando avanti che è appunto un lavoro prezioso, sicuramente fermento, lievito per una comunità, quella della provincia di Foggia appunto su cui state lavorando ad ampio spettro. Ecco, per chiudere, il teatro sicuramente è uno strumento artistico che ci aiuta a capire il mondo in cui viviamo, ma senza dubbio ci aiuta a conoscere anche meglio noi stessi. Sei d'accordo? Assolutamente sì e le due cose sono strettamente connesse, cioè capire il mondo in cui viviamo è possibile nel momento in cui capiamo le persone che quel mondo lo abitano e quindi noi. Per questo io vi darei un ultimo appuntamento alla stagione di prosa che il 23 maggio alle 20 prova al Teatro Comunale a tirare un po' le somme di tutto quello che è stato, a dare i numeri e le ragioni di questi numeri. Quindi se avrete ancora voglia di fare l'ultimo pezzettino di strada, proprio fino alla chiusura e a un incontro, dibattito su quella che è stata questa stagione e quello che speriamo saranno le prossime. Noi ci vediamo il 23 maggio in teatro. Molto volentieri, accettiamo il tuo invito e invitiamo a nostra volta a seguirvi sulle vostre pagine social, sul sito ufficiale e in maniera tale da restare connessi anche oltre questa chiacchierata. Grazie ancora Stefania e buona chiusura di stagione futura e buon proseguimento per il vostro percorso artistico, culturale e sociale, possiamo dire, davvero così prezioso e importante. Grazie, buon lavoro a voi, grazie ancora. Grazie a te e arrivederci a presto. Mi raccomando andiamo a teatro, andiamo al cinema, leggiamo i libri, insomma nutriamo la nostra mente. Noi ci fermiamo solo per qualche altro istante, poi ci ritroviamo ancora con i vostri scatti che stanno giungendo numerosissimi al nostro 331-737-8033 e poi andiamo a sfogliare anche il nostro libro di storie per vedere che cosa è successo il 9 maggio nel nostro almanacco. A fra pochissimo.